E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi torniamo ad analizzare un report istituzionale, so che vi piacciono questi contenuti e tra parentesi se li continuate ad apprezzare lasciate un bel like a prova di ciò così me ne rendo conto e ne continuo a fare. Stavolta parliamo di un report di Fidelity nello specifico, un report di cui si è chiacchierato molto sui social in questo periodo perché va a raccontare come secondo il loro punto di vista Bitcoin e le altre cripto in quanto asset andrebbero trattati e valutati in modo radicalmente diverso. Io sono piuttosto d'accordo con quello che viene detto all'interno di questo report e quindi ci tengo ad analizzarlo insieme a voi andando a sviscerare proprio le motivazioni che vengono adotte e le conclusioni che secondo Fidelity ogni investitore dovrebbe trarre, dovrebbe quantomeno valutare con molta attenzione nel momento in cui decide di allocare un'esposizione, una parte del suo portafoglio sulle cripto, sui digital asset. Prima di iniziare vi faccio una domanda diretta. Qui si parla di differenza tra Bitcoin e le altre cripto che spesso vengono comunque utilizzate come forma di investimento anche entrambi. Io vi chiedo per curiosità, voi preferite investire in Bitcoin oppure in altre cripto? E come mai insomma motivate la risposta? Sono curioso davvero di sentire il vostro punto di vista quindi scrivetemelo nei commenti. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se volete rimanere sempre sul pezzo al 100% con tutto ma proprio tutto quello che c'è da sapere su Bitcoin e le cripto con nuovi contenuti praticamente ogni giorno. Bitcoin First è il titolo di questo report. Revisited come mai? Perché in realtà non è la prima volta che lo scrivono. Ne hanno scritto uno molto simile nel 2022, quindi un anno fa. Fidelity è sempre stato un grosso sostenitore e detentore di Bitcoin, tra l'altro. Non a caso è stato uno dei primi proponenti di un ETF spot negli Stati Uniti. Fidelity ha anche erogato con successo non negli Stati Uniti altri prodotti simili, quindi fondi con detenzione, con esposizione spot appunto a Bitcoin negli Stati Uniti. Come ben sappiamo non sono ancora stati approvati ma ci si sta lavorando. Al di là di questo, come vi dicevo, la tesi fondamentale è che Bitcoin e le altre cripto sono due tipologie di asset estremamente diversi. Da una parte abbiamo Bitcoin con un certo storico e un certo ruolo e scopo, nonché profilo di rischio e rendimento dipendente proprio da questo, e dall'altra parte abbiamo altre cripto con un diverso profilo di rischio e rendimento, chiaramente con un potenziale rendimento più alto, ma con un rischio estremamente più alto. Non è che sono improvvisamente diventato massimalista, lo sapete che anch'io ho sempre visto, io porto il punto di vista da investitore su Bitcoin e sulle cripto, e per quanto sia estremamente affascinato dalla tecnologia, dallo sviluppo e da tutte le cose che stanno accadendo, tutti i vari trend che negli anni sono accaduti, e pertanto ve li porto poi per tenervi aggiornati, perché è fondamentale conoscere quelli che sono i trend e la direzione in cui stiamo andando, se avete sempre seguito la mia asset allocation, sapete bene come anche in bull market, quindi anche in quei periodi in cui è facile farsi prendere dalla FOMO, ho sempre mostrato come il 75% della mia allocazione fosse cripto, ovviamente, poi c'è tutto il resto, fosse di fatto in Bitcoin, con il restante praticamente tutto in Ethereum, e poi il resto qualche piccola allocazione super speculativa, cioè più speculativa o meglio, su altre cripto. Però di fatto il ragionamento di fondo è molto simile, se non analogo a quello che viene proposto qui. Quindi iniziamo subito, non perdiamoci troppo in chiacchiere, andiamo a vedere un po' quello che viene raccontato. Ho evidenziato anche le parti più interessanti, vi lascio se volete il link in descrizione a questo report, se vi interessasse scaricarlo, è libero per tutti, ovviamente gratuito dal sito di Fidelity. Bitcoin differisce dagli altri digital assets, Insomma, questa è un po' la tesi iniziale, ve l'ho già raccontato in poche parole, poc'anzi. E di fatto qua viene detto che se da una parte qualcuno teme che potrebbe essere vulnerabile all'essere soppiantato da qualche competitor più efficiente, dall'altra parte questo, come vedremo, viene valutato molto poco probabile, perché di fatto Bitcoin non si tratta di una tecnologia che punta a chissà che cosa, ma punta soprattutto all'essere un monetary good, quindi una sound money, come qualcuno dice, no? Ovvero un bene con delle determinate caratteristiche, che sono scarsità, decentralizzazione, non censurabilità in primis, che punta a diventare una forma di moneta, uno store of value, una forma di valore alternativa, in un mondo che è sempre più verso la digitalizzazione. Una delle principali tesi di investimento per Bitcoin, per l'appunto, è proprio questa, quindi monetary good e store of value. Teneteveli a mente perché verranno approfonditi molto bene nei prossimi minuti, nelle prossime pagine. Bitcoin differisce fondamentalmente da tutti gli altri digital asset perché nessun altro potrà prendere il posto di Bitcoin, migliorare più di quanto ha fatto Bitcoin lo status di monetary good. Per quale motivo? Perché Bitcoin è il più sicuro, decentralizzato e sound money, quindi sicuro proprio per come è strutturato il discorso del proof of work, quanto è diffuso il proof of work di Bitcoin, l'hash power continua a crescere, il numero di miner continuano a crescere e inoltre questi stessi miner, nonché i suoi nodi, sono decentralizzati al punto da poter resistere anche ad attacchi che ci sono già stati storicamente, come il tentativo di incrementare le dimensioni dei blocchi, eventuali attacchi di censura da parte di alcuni stati molto potenti che hanno interesse magari appunto a oscurare in qualche modo Bitcoin. Ecco, ha già resistito ad attacchi di questo tipo e sicuramente più passa il tempo e più giorni, mesi, anni passano e più diventa resistente ancora di più a queste tipologie di attacchi. Il discorso di sound money, cosa significa? Chi ha letto The Bitcoin Standard sicuramente conosce molto bene questa terminologia, ma di fatto si parla di una forma di moneta, se vogliamo, più appetibile. Per quale motivo? Perché non viene influenzata da politiche monetarie espansive, quindi continuamente ridotta in valore a causa di inflazione alta, stampa di moneta, governi che devono finanziare il loro debito, finanziare conflitti, finanziare altre situazioni, ma di fatto è una moneta che è lì, così com'è, le regole le conosciamo tutti, le regole sono uguali per tutti e non possono essere cambiate. Quindi più il suo network effect, quindi più persone si rendono conto di questo e decidono di scegliere Bitcoin come forma di moneta, come forma di detenzione del valore, proprio perché è appetibile per queste ragioni e più diventano forti, perché più si rafforza il suo status di monetary good. Questa è la tesi di investimento principale su Bitcoin, con i suoi rischi e con il suo possibile ritorno futuro, perché ovviamente ci sono dei rischi anche nell'investire in Bitcoin, ovvero il rischio che questo status di monetary good non venga poi nel tempo mantenuto o comunque non cresca e questo ovviamente rende Bitcoin un asset a rischio e questo è accompagnato anche dal potenziale rendimento che Bitcoin può dare nel momento in cui invece cresce questo status e il suo scopo viene raggiunto sempre di più. Chiaramente questi sono i due scenari possibili. Scenario positivo, Bitcoin si afferma sempre di più come forma di sound money, come monetary good. Scenario negativo, Bitcoin non si afferma come tale e pertanto non acquisisce valore nel tempo. Chiaramente ognuno deve avere la sua opinione e decidere se investire o meno in Bitcoin in base a quello che ritiene. Io non sono qui per evangelizzare nessuno, ma sono semplicemente qui per definire, no, delle eventuali tesi di investimento. Andiamo avanti con l'analisi del nostro report. Come vedete, ecco, qua c'è un punto importantissimo, ovvero ogni possibile miglioramento, adesso facciamo passare l'ambulanza, abbiate pazienza, ormai è diventato un meme anche quello, ogni possibile miglioramento che si prova a fare su Bitcoin, rendere magari più scalabile, dare più funzionalità e quant'altro, ha dei trade-off, ovvero si rinuncia a qualcos'altro, ci sono dei compromessi. Anche questo lo andremo ad approfondire tra poco. Quindi, di fatto, la conclusione è che il resto dell'ecosistema dei digital asset non è che è una moneta, non va comparato a Bitcoin, nel senso che Bitcoin funge da moneta, monetary good e store of value, il resto no, non c'è nessun altro asset che è equiparabile a Bitcoin in termini di store of value e monetary good. Ethereum è un'infrastruttura, Ether è il gas di questa infrastruttura, quindi un bene consumabile. La stablecoin è un metodo di pagamento, i token hanno un valore circoscritto alla utility che hanno all'interno della loro applicazione, i layer 1 alternativi a Ethereum sono dei competitor di Ethereum, non di Bitcoin, chiaramente, o comunque di altri layer 1, ognuno con uno specifico caso d'uso. Ecco, bisogna valutare, bisogna avere un'attesi di investimento specifica per ognuno di essi, ovvero capire perché ci stiamo investendo. È sbagliato, è una tesi errata, investire in Ethereum pensando che possa diventare un monetary good migliore di Bitcoin. Perché? Perché è evoluto tante volte nel tempo, viene cambiato molto spesso il protocollo, è meno decentralizzato di Bitcoin, e non ha una supply con un massimo definito, nonché una scarsità programmata e chiaramente scritta nel codice. Io vi parlo poi da investitore anche in Ethereum, non voglio assolutamente screditare, anzi, io spesso vengo tacciato di essere, tra virgolette, fanboy di Ethereum, perché mi piace in maniera veramente pazzesca l'innovazione che Ethereum ha portato. E quella è la mia tesi di investimento su Ethereum, di cui parleremo magari in un altro momento, e che se mi seguite dovreste già conoscere. Ma non è minimamente un competitor di Bitcoin, perché svolgono due ruoli, hanno due ruoli nel mondo dei digital asset diametralmente opposti. E questo è ciò che viene detto, due diversi framework per andare a valutare come prospettiva e come investimento Bitcoin e gli altri digital asset. Più ci si spinge al di fuori di Bitcoin, più le proprietà sono simili al venture capital, ovvero stiamo investendo in startup, stiamo valutando startup con dei rischi atrocemente più alti. Questo è fondamentale capirlo. Spesso ci si butta sulle altcoin nella speranza di avere ritorni più alti, sicuramente ci possono essere ritorni più alti, ma accompagnati da rischi estremamente più alti. E infatti la conclusione che appoggio, se mi seguite spesso mi avrete sentito dire che Bitcoin è un po' una sorta di indice, tra virgolette, del mondo cripto, quindi è un po' come l'SP500 per l'azionario, il World, l'ETF World per l'azionario, Bitcoin dovrebbe essere considerato un entry point per gli allocator tradizionali che cercano un'allocazione, un'esposizione al settore delle cripto. Quindi questa è un po' l'introduzione e il riassunto di quello che andremo a vedere in modo più approfondito tra poco. Adesso andiamo avanti, se no stiamo qui fino a stanotte. Che cos'è Bitcoin? Allora, qui ovviamente l'obiettivo non è spiegare la filosofia di Bitcoin, per questo ci sono tanti contenuti che trovate già sul mio canale, che cos'è, lo scopo, come funziona. Abbiamo fatto anche un corso base proprio su come funziona Bitcoin, dove viene spiegato il mining, i nodi, tutto il network. Ecco, quindi qui riassumiamo dicendo non-sovereign monetary good of the digital asset ecosystem. Quindi una forma di moneta barra store of value, non-sovereign, quindi non controllata da nessuno, con le caratteristiche di decentralizzazione, sicurezza, il network Bitcoin è il network più sicuro al mondo, e non perché mi piace dirlo, ma perché è da 14 anni che è in piedi e letteralmente chiunque riuscisse a bucarlo potrebbe guadagnare miliardi e nessuno ci è riuscito, ok? Questo è un po' il motivo per cui è sicuro. Inoltre, non cambia, cambia lentamente, questo proprio perché tutti i partecipanti ci tengono che rimanga sicuro, come è sempre stato. Non-sovereign non censurabile, inoltre non pignorabile, nessuno ti può portare via dalle tasche i tuoi Bitcoin, insomma lo sappiamo molto bene. Ci sono due tipologie di Bitcoin, Bitcoin con la B maiuscola che è il network e Bitcoin con la B minuscola che è l'asset. Questa è un po' la definizione che si tende a dare. Il network Bitcoin non è compatibile con gli altri network, non ci sono, come si può dire, standard di interoperabilità, si stanno costruendo soluzioni di interoperabilità, ma di default Bitcoin è una chain stand-alone, ok? che svolge le sue funzionalità in modo isolato. Lui lo fa. Perché è un monetary good? Allora, qui ecco, viene fatto un carino, un confronto carino, secondo me, tra Bitcoin, fiat currency e l'oro, no? Come diverse tipologie di monetary good. Perché l'oro? Perché di fatto l'oro spesso e volentieri è usato come rifugio nel momento in cui ci si vuole eggiare in qualche modo dal sistema fiat, no? Quindi, quali sono le caratteristiche? Allora, durabilità. Cosa vuol dire? Che mantiene il potere d'acquisto nel tempo. Bitcoin e oro sono creati per questo per via della scarsità, a patto, chiaramente, che ci sia sempre interesse e domanda. La fiat currency, invece, tendenzialmente si svaluta nel tempo perché la supply incrementa in maniera abbastanza marcata e, insomma, l'inflazione negli anni ce l'ha sempre dimostrato. Divisibilità. Bitcoin è divisibile fino a otto decimali. La fiat currency anche. L'oro, ovviamente, è più difficile da fare in piccoli pezzi. Oro e Bitcoin sono fungibili. La fungibilità, cosa vuol dire? Che un'unità è equivalente a un'altra, no? Di fatto, tutti e 21 milioni i Bitcoin sono uguali. Ogni frammento d'oro è uguale all'altro, chiaramente, a meno del peso, no? Mentre la valuta fiat, ci sono i dollari statunitensi, i dollari canadesi, i euro, franchi svizzeri, eccetera, eccetera. Portabilità. L'oro è difficilmente trasportabile, perché comunque ha un peso, mentre Bitcoin e fiat currency, ovviamente, sono semplici da trasportare. Verificabilità. L'oro è falsificabile, la fiat currency è falsificabile, Bitcoin non è falsificabile, perché, chiaramente, se vai a transare sul network Bitcoin, non puoi usare dei Bitcoin falsi. Ci sono i nodi che verificano in maniera continua a ciò che avviene all'interno del network. Scarsità, oro e Bitcoin sono scarsi, fiat currency, ovviamente, non sono scarse, tutt'altro. Track record, ecco, qui abbiamo l'oro che ha un track record comunque secolare, mentre Bitcoin è nuovo, quindi non si può certo dire che ha un track record sufficientemente lungo, le fiat currency hanno un track record pessimo, ovvero, spesso e volentieri, sono andate molto, molto male, quindi hanno un track record, sì, ma decisamente negativo. Questo è un po' il, ecco, lo schemino che va a confrontare le diverse caratteristiche che una moneta dovrebbe avere. Scharsità, provably finite, quindi il fatto che ci saranno sempre e solo al massimo 21 milioni di Bitcoin, a meno che ovviamente qualcuno non proponga una modifica del protocollo, ma è pressoché impossibile che venga approvata una modifica così radicale dall'andare a diluire la supply di Bitcoin, e quindi la sua politica monetaria è trasparente e credibile. Decentralizzazione ovviamente è l'altro tema, ovvero nessuna persona, corporation, governo, controlla le regole di Bitcoin perché le regole di Bitcoin vengono decise dai nodi che decidono di appoggiare una chain piuttosto che un'altra. Se qualcuno dovesse proporre una chain alternativa, lo abbiamo già visto tante volte con i blocchi più grossi, i blocchi più piccoli, con una funzionalità diversa, con qualcosa in più, in meno, i nodi poi decidono quale appoggiare e chiaramente c'è un tema di interessi che spinge i nodi ad appoggiare la versione obiettivamente migliore di Bitcoin. Chi decide qual è migliore? Di nuovo la democrazia, i nodi, chi fa parte del network. Quindi maggiore il livello di decentralizzazione di questi nodi maggiore poi è la qualità della scelta che viene portata avanti e di conseguenza il valore del network stesso. Il cambio della supply è proprio uno di queste possibili scelte che potrebbero accadere ma non accadrà praticamente di sicuro. Perché? Perché appunto non c'è una grande azienda, un consorzio che ha potere di voto e quindi il discorso è proprio di incentivi. Cioè chi è che sceglierebbe di diluire il valore di Bitcoin? I miner no di sicuro, i detentori no di sicuro perché va contro proprio quella che è una delle principali tesi di investimento di Bitcoin. C'è un tema delle tale mission qua andiamo un po' off topic che è proposto da qualcuno che pensa di che punta no? Cioè dice potremmo andare a incentivare i miner anche finiti gli ultimi halving continuando ad emettere piccolissime quantità di Bitcoin. Quello è un tema chiaramente ben diverso dall'incrementare la supply perché la vai a incrementare di una briciola però ecco è tutto un tema anche quello super dibattuto e siamo cento anni in anticipo no? Quindi giusto per farvi capire quanto pesa andare a dibattere queste cose. Censorship resistant come abbiamo detto nessuno ti può censurare le transazioni no geographical boundaries perché di fatto Bitcoin è internazionale e puoi inviarlo ovunque con le stesse modalità e velocità e quindi questa è un po' la logica per cui Bitcoin è un monetary good che ha valore. Monetary good è qualcosa che il cui valore è attribuito proprio al suo utilizzo come mezzo di scambio come mezzo che detiene valore e quindi al di là della sua utilità no? del suo valore di consumo Bitcoin è visto come una sorta di asset con il quale che può svolgere appunto le funzionalità di monetary good di moneta. La scarsità è una delle principali ragioni per cui gli si dà valore decentralizzazione censorship resistance e inoltre chiaramente i partecipanti sono incentivati a difendere queste sue caratteristiche. Come mai potrebbe essere il primary monetary good Bitcoin che è il suo obiettivo finale ovviamente l'incentivo a scegliere la giusta forma di moneta è l'incentivo più forte al mondo che esista no? Più forte che la scelta di altri network come un social network un operatore telefonico eccetera di fatto noi siamo incentivati a scegliere il migliore da un punto di vista proprio di utilità nel momento in cui scegliamo un social network quello dove ci sono più persone coinvolte più bello da usare eccetera eccetera nella moneta caspita questo incentivo è ancora più grande perché è la moneta che mantiene il suo valore nel tempo o magari addirittura lo fa crescere caspita ci dà un incentivo non indifferente a sceglierla la cosiddetta appunto sound money nella storia più volte c'è stata la corsa verso la sound money e nel momento in cui la si è abbandonata di nuovo leggete The Bitcoin Standard se non l'avete letto ve lo spiega molto bene nel momento in cui viene abbandonata di solito succedono cose molto poco positive a scapito a danno dei tanti a beneficio dei pochi di solito è questo che accade quindi tendenzialmente se gli investitori cercano un digital asset come monetary good e abilità di fare da store of value sceglieranno naturalmente quello con la maggior sicurezza maggior decentralizzazione e maggior liquidità nonché network più ampio nonostante quindi la dominance di Bitcoin nel tempo è scesa vedete è scesa negli anni questo non è perché Bitcoin è peggiorato ma è perché c'è stata una crescita comunque enorme anche del resto dell'ecosistema quindi non è una cosa da vedere a danno di Bitcoin ok poi c'è una proprietà una reflexive property ovvero più queste caratteristiche diventano verificate e più incentivo c'è a utilizzare Bitcoin qui c'è un circolo virtuoso diciamo che parte dal maggior numero di utenti e holder e questo fa sì che la domanda cresce i miner arrivano la sicurezza e la decentralizzazione aumentano perché la base utenti cresce diventa più attraente e quindi questo di nuovo alimenta il tutto la base è questa utenti e holder al centro della tesi di investimento su Bitcoin deve esserci l'idea che la base utenti e la base holder che è la stessa cosa cioè utenti nel senso chi lo utilizza chi lo accetta chi lo spende chi lo detiene tutti gli utilizzi possibili di Bitcoin come asset e come moneta se aumentano chiaramente il suo valore aumenta appunto questo è il fatto e qualsiasi nuova nuovo network che prova a migliorare Bitcoin come monetary good magari dicendo sono più scalabile sono più veloce sono più qua sono più là ovviamente sacrifica alcune proprietà tra cui la decentralizzazione e la sicurezza il famigerato trilemma poi altro tema l'antifragilità di Bitcoin ovvero nel tempo si è dimostrato estremamente resiliente e antifragile ha sopportato scusate questi attacchi queste cose guardate qua ci sono alcuni eventi che Bitcoin ha sopportato ovvero l'utilizzo illecito che è stato accusato mille volte frode ponzi speculazione gioco d'azzardo confisca da parte dell'FBI guerra civile all'interno di Bitcoin sul codice la block size war ad esempio e il fatto che è rimasto forma di pagamento per i ransomware hack degli exchange pump and dump del prezzo fork nel codice banche rotte di servizi e aziende intorno al mondo cripto bannato in vari stati copiato migliaia di volte e nonostante ciò è continuato giorno dopo giorno a crescere sempre più forte questo è la definizione di resilienza e di antifragilità e questo lo va a consacrare ancora di più come bene forte come un qualcosa che è difficile da andare a soppiantare da andare a superare e questo è il cuore veramente della value proposition proprio di bitcoin come asset qua si parla del trilemma non vi tiro scemi con questa cosa perché è già un tema già più che dibattuto sicurezza decentralizzazione scalabilità sicurezza è la possibilità il rischio di attacco compromissione su bitcoin c'è il 51% attack perché bitcoin è il network più sicuro perché il suo hash power come vedete continua a crescere e un attacco del genere è costosissimo nonché disincentivato proprio perché non ha senso andare a spendere e non è neanche possibile ammassare un hardware del genere e andare a spendere una cifra del genere per fare un attacco tra l'altro temporaneo perché poi è sanabile nei confronti di bitcoin e questo è ciò che lo rende sicuro decentralizzazione a quanto è controllato da uno o pochi chiaramente su bitcoin valgono i nodi nonché la hash power queste sono le due cose che devono essere decentralizzate l'hash power ha subito un'ulteriore distribuzione dopo il ban della cina che prima deteneva il 75% del hash power e tra l'altro altra dimostrazione di resilienza ban della cina si è distribuito subito altrove questo mostra l'interesse in tutto il mondo per anche il mining di bitcoin e i nodi anche hanno un ruolo importantissimo proprio perché i nodi decidono le regole del protocollo votano per modifiche o meno delle regole del protocollo i nodi sono sempre più distribuiti globalmente e questo ovviamente lo fa cioè rafforza di nuovo la tesi di investimento eccetera eccetera poi ecco viene detto che altri network che esistono possono puntare di più sulla decentralizzazione sulla velocità la scalabilità eccetera però c'è un trade off quindi a seconda del ruolo che un network vuole avere cioè magari ci sta che qualcuno non voglia il massimo della decentralizzazione ma preferisca più velocità e chiaramente non sarà il miglior money non sarà il miglior monetary good ecco andrà ad avere un ruolo differente più specifico più applicativo più infrastrutturale ovviamente ognuno è giusto che possa esprimere il suo scopo e quant'altro però ovviamente per essere un monetary good devi massimizzare sicurezza e decentralizzazione ed è ciò che bitcoin fa qui c'è racconta le block size war non so se conoscete questo avvenimento storico per bitcoin quando si proponevano blocchi più grossi c'era chi voleva incrementare le dimensioni dei blocchi per avere una maggior scalabilità molti erano contrari ovviamente perché questo andava a aumentare poi le dimensioni della blockchain e quindi andava a decrementare la decentralizzazione perché avere un nodo poi ti costa di più in quanto devi avere un disco più grande e pertanto appunto un costo maggiore negli anni inoltre i blocchi più grandi generano blocchi vuoti perché magari appunto non riesci neanche a riempirli se non c'è domanda per block space e di conseguenza vai a pagare meno i miner c'è meno incentivo c'è stato tutto un dibattito una serie di hard fork e alla fine ha vinto il bitcoin originale come vedete qua è la dominance dei vari hard fork di bitcoin dei vari competitor effettivi di bitcoin dove c'è dentro anche litecoin se vogliamo che è spesso considerato una sorta di testnet però vedete a partire da bitcoin cash che è il primo vero hard fork che aveva proposto un incremento della block size vedete che poi di fatto poi c'è dogecoin non so per quale motivo vi ho mostrato anche lui ma di fatto i proponenti dei blocchi più grandi sono stati nel tempo abbandonati e diventano vedete sempre meno rilevanti guardate al giorno d'oggi cioè c'è solo litecoin e dogecoin il resto è praticamente scomparso perché la natura ha fatto il suo corso a una selezione naturale e la community ha scelto di utilizzare bitcoin originale di adottare bitcoin originale non vi faccio tutta la storia di bitcoin cash eccetera eccetera perché comunque è appunto una storia che già conosciamo ma di fatto ciò che importa è che è stato scelto bitcoin originale come ciò che aveva più valore ok questo è il punto da portarsi a casa Ethereum qui c'è un case study su Ethereum che anche questo va un po' off topic secondo me e per dire cosa per dire che è radicalmente diverso da bitcoin non vuole essere un monetary good non vuole essere uno store of value ha una tokenomics interessante a tratti deflattiva con la supply che può decrescere al crescere dell'attività sì ma ciò non lo rende uno store of value è un monetary good lo rende interessante magari da un punto di vista sì di accumulo di valore e potenzialmente se vogliamo anche di store of value ma le cose possono cambiare no il protocollo è molto dinamico è cambiato molto spesso è nato come infrastruttura e Ether è nato come spendibile consumabile su questa infrastruttura quindi il computer globale questa è la tesi di investimento di Ethereum più viene utilizzato e più acquisisce valore ma non nasce per essere una moneta alternativa a bitcoin nasce per essere un'infrastruttura sulla quale andare a creare applicazioni ok e di fatto lo sta facendo infatti insomma a mio parere poi è un investimento interessante anche Ethereum con dei rischi maggiori rispetto a bitcoin e questo lo si riflette anche nella mia asset allocation poi ognuno può pensare quello che vuole ma sicuramente servono scopi diversi come vedete monetary network multipurpose platform infrastruttura velocità di miglioramento di aggiornamento lenta più veloce più responsiva a quello che gli utenti chiedono sapete bene che quando emerge una necessità si modifica il protocollo programmabile abilità di andare a creare token quindi questo fa parte ovviamente del caso d'uso di Ethereum monetary policy è cambiata spesso e volentieri mentre su bitcoin non cambia mai auditabilità ecco qua c'è anche un tema di sicurezza perché ovviamente bitcoin è cioè minimalista quindi è semplice è così e quindi è più sicuro Ethereum non è che di per sé c'è il rischio che Ethereum venga bucata ma nel momento in cui sviluppi su Ethereum ovviamente hai un linguaggio touring complete quindi è difficile da auditare lato sicurezza infatti abbiamo visto tanti exploit questo non vuol dire che Ethereum fa schifo vuol dire che ovviamente è più complicato è un trade off ripeto ci puoi fare un'infinità di cose in più ma hai una maggior complicazione un rischio maggiore anche lato sicurezza centralizzazione ovviamente è differente nessuno è comparabile a bitcoin costo di un nodo è differente meccanismo di consenso è differente queste sono le radicali differenze proprio con Ethereum adesso si arriva al punto cruciale qui abbiamo un altro paragrafo che racconta sulla funzionalità la programmabilità sempre comparato a Ethereum eccetera eccetera come c'è stata la crescita nell'ecosistema dei digital asset migliaia di nuovi progetti perché comunque Ethereum ha dato il via poi alla possibilità di sviluppare con totale libertà qualsiasi applicazione ci venisse in mente no? e questo ha creato veramente un boom e il mondo multichain di nuovo la necessità di andare a collegare in qualche modo l'ecosistema dei digital asset l'uno con l'altro al momento le soluzioni sono molto fragili ci sono i bridge spesso hackerabili di soluzioni centralizzate eccetera sicuramente l'interoperabilità sarà uno sviluppo chiave per collegare i diversi ecosistemi anche perché bitcoin proprio come moneta porta enorme valore caso d'uso anche per tutto il resto se si trova il modo corretto appunto di andarla utilizzare negli altri network e qui ecco arriviamo al punto cruciale quindi bitcoin di fatto al momento ha un chiaro vantaggio come store of value e questo riduce il suo rischio chiaro vantaggio perché sicurezza eccetera che abbiamo già visto la resilienza il fatto che ha sopravvissuto di tutto e di più nel tempo giorno dopo giorno viene sempre più utilizzato ci sono sempre più miner c'è sempre hash power sempre più nodi eccetera eccetera quindi sta crescendo i suoi fondamentali stanno crescendo e questo lo rende il miglior risk adjusted investimento nel mondo dei digital asset perché il resto chiaramente ha potenziali ritorni più alti ma anche rischi più alti e qua ci si chiede come andrà avanti il mondo dell'ecosistema dei digital asset ne rimarrà soltanto uno o ci sarà una scelta ci sarà distribuzione un ecosistema florido e diversificato io sono per la seconda a dire la verità ma nonostante questo sicuramente nel mondo dei monetary good digitali ci sarà solo bitcoin non c'è un'alternativa a bitcoin di questo ne sono decisamente convinto e qua racconto ancora un po' meglio tutto quanto dunque volevo arrivare alla conclusione eccolo qua questa è la conclusione qua viene raccontato di nuovo il discorso che punta a una specifica necessità dove non ha competitor eccetera eccetera e chiaramente questo va considerato nel momento in cui si decide di allocare rischi ritorni e ruolo nel portafoglio di bitcoin allora first mover advantage ovviamente è una delle cose ogni giorno il network cresce con più utenti miner e infrastruttura il rischio quindi di censura e di attacco e di bug decrementa perché perché ovviamente più è distribuito e più è resistente alla censura e più sopravvive con la posta in gioco che c'è per chi riesce a esploitarlo e più è improbabile trovare bug inoltre bitcoin è fermo è semplice non vuole evolvere in fretta proprio per questa ragione è una feature quella della lentezza perché perché di fatto non vuole andare a includere rischi magari imprevedibili e la decentralizzazione che lo difende dai nation state attacco ovviamente ecco il downside risk anche questi ovviamente sono i suoi rischi principali e come vanno a calare nel tempo rischi che potrebbero comprometterlo mentre e ovviamente ecco qualcuno li va a sovrastimare proprio perché comunque insomma più passa il tempo e più si abbassano questi rischi poi andando al di fuori ci sono possibili rendimenti più alti ma con rischi chiaramente molto maggiori il livello di rischio di bitcoin è decrementato drasticamente dall'inizio ovviamente anche il ritorno perché chi all'inizio si è assunto un rischio maggiore investendo in bitcoin quando valeva 100 dollari è stato ampiamente ricompensato adesso non c'è più un ritorno potenziale simile la possibilità di ritorno invece su bitcoin è comunque data dalla crescita dell'intero ecosistema dei digital asset perché comunque se attirano liquidità e interesse anche bitcoin ne beneficia perché è il principale di fatto digital asset e inoltre le potenziali instabilità del mondo macroeconomico attuale vanno a privilegiare bitcoin il livello del debito pubblico che continua a crescere l'inflazione e quant'altro vanno ovviamente a portare interesse verso una possibile sound money la cui supply non può essere alterata storicamente l'oro ad esempio ha performato molto bene negli anni 70 con inflazione alta e tassi di interesse reali quindi aggiustati all'inflazione negativi questo porta ovviamente chi vuole conservare il proprio capitale ad avvicinarsi a una forma di sound money quindi hedge contro potenziali rischi associati agli asset tradizionali questa è una tesi di investimento fortissima anche solo come diversificazione proprio con gli asset tradizionali e inoltre un modo semplice ed efficiente per avere esposizione al mondo dei digital asset tutto il resto ha rischi molto grandi come scarsa decentralizzazione più si va sui token ovviamente magari legati a uno specifico progetto e più c'è influenza di poke whale o poi i developer sul progetto stesso la competizione perché c'è sempre più competizione e inoltre proprio il fatto di sopravvivere se guardiamo anno dopo anno la top 20 anche della market cap è cambiata profondamente quindi la tesi finale è un po' questa abbiamo bitcoin e abbiamo il resto bitcoin ci dà certe tra tante virgolette garanzie ovvero sound money monetary good sopravvive negli anni cresce fa il suo non cambia è statico è fermo è monolitico ma punta proprio a dare quello che vuole dare cioè store of value monetary good il resto è molto dinamico esplosivo innovativo cambia molto spesso è uno scenario molto simile a quello delle start up quindi ignorarlo è sbagliato da investitore perché come si crea un portafoglio piramidato dove alla base hai asset a rischio minore e magari se conosci bene un mercato puoi esporti anche su asset a rischio maggiore perché ti danno un buon rendimento se calcolato bene con un'allocazione più limitata lo stesso vale per le cripto bitcoin dovrebbe essere sono d'accordo anch'io ripeto è sempre un'opinione ognuno può pensarla come vuole ma anch'io sono d'accordo sul fatto che bitcoin dovrebbe consistere nella maggior percentuale di allocazioni in cripto di chiunque per un discorso banalmente di rischio e rendimento più favorevoli rispetto al resto più ci si allontana da bitcoin più si va in territorio speculativo e a limitare addirittura del gambling più ci si allontana e più si va a speculazione e poi gambling i token nuovi le coin nuove tutto ciò che è appena nato chiaramente tende molto di più al gambling che all'investimento nel costruire un portafoglio siamo liberi di fare una scelta di scegliere quanto allocare ad un comparto all'altro bitcoin investimento speculazione gambling e quant'altro siamo veramente nati liberi grazie a dio bisogna farlo consapevolmente spero che questa ricerca possa dare una mano ad avere maggior consapevolezza amici di nuovo vi ringrazio per avermi seguito fino in fondo vi faccio un carissimo saluto e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti